Il sistema perfetto, bestiale, in cui tutto va male, le marche andava benino e soprattutto erano una zona messa. In dieci giorni, venti giorni, banca masche, aeratorica, biogas e gli scambioli della Santità Pesadesa. Due miliardi e otto, due mila euro a testa. E siccome la cifra è tanta e bisogna avere i tecnici, e allora si promuovono i tecnici, si mandano fuori i territori dalla gestione della sanità e si strappavano i tecnici. Quindi ci perdono 150 mila euro all'anno. Dicca lo scherzo. Più due deputati. I due sottopanza suoi diretti, poco meno. E poi succede da Roma come Franky. Io non ce l'ho con Franky, eh. Ma veniamo ad apprendere dai giornali che un tizio che fa il primario a pediatria fa le visite interne all'ospedale e non prese i soldi che spedano all'ospedale. Eh? L'altro Franky. L'altro Franky. E perché paghiamo lo stupendo in giro? Perché? E poi cerco di dimostrare un attimo. Se Franky... Allora, sapete come funziona, no? Ogni medico ha diritto a fare le visite in Framenia, si dice. All'interno delle nuove, con il giro. Gli infermieri, i telefoni, i locali dell'ospedale. Tu telefoni, al CUP, ti dicono, nel 2014. Però, in Framenia, il pagamento, il giorno dopo. Guardate che ogni medico chiede i giorni e chiede alla direzione sanitaria i giorni, in cui vuole fare le visite e dice da che ora a che ora. E' giusto che sia così, perché la direzione sanitaria dell'ospedale deve controllare l'ospedale le costruzioni. Quindi non è che tutti i medici possono fare tutti alla stessa ora le visite, no? Ecco, non ci sarebbe l'ospedale. Quindi deve distribuire. Quindi loro sanno, sanno anche presuntivamente, quante visite vengono fatte. In generale è uno di un parco d'ora. A volte è meno di tempo. Quindi, se fanno 8 ore, in una settimana divise fanno 8 per 4, 32. Moltiplicato il costo viene una cifra. Scusate, ma non si chiama azienda ospedaliera. E in un'azienda ospedaliera non c'è chi controlla le entrate. E ricci perché prende lo stipendio. Ma in un'azienda privata, uno che vende un servizio non si preoccupa di rispondere. Quanto tempo durerebbe il venditore di un'azienda privata di caccinelli, l'ha detto commerciale, se vende senza rispondere. E se cacci in cucchia pia, e noi dicono che c'è 4 mila euro. E' scritto l'azienda privata che dice, al verbo, è un caso specifico, noi non c'entriamo niente. Voi non c'entrate niente. Voi non avete fatto, in vigilando, il dovuto. Cioè, non avete neanche vigilato sull'attività che fate. Poi magari scoprite che quello che doveva osservare la cosa è il marito del capo, del sottocapo, dico, lo so. Il marito, perché è la moglie del sottocapo. Non mi ricordo mai come si chiama. Comunque, la cattiva di turno. Dunque, questa gente super tecnica fa ste robe e ci viene a dire che poi non ci sono i soldi, ci sono i servizi che si devono chiudere. Allora, lo dico questo per controllare? No. Perché, ripeto, io voglio fare arrabbiare, non mi allacco più. Lo dico questo perché adesso, con l'azione che facciamo, ci costituiamo anche parte civile, controfatti per chiedere i danni e per chiedere che l'Azio e la regione siano esclusi dal procedimento. Perché l'Azio e la regione hanno tutto l'interesse a smorciare la faccenda, a spegnere. Perché dovrebbero fare l'editore, sono anche valenza. Ma in più vogliamo chiedere anche i conti di tutti i messi. Se l'Azio, con un direttore che piglia 250.000 euro, non è in grado di controllare il servizio più semplice che fa l'Azio sul resto, cosa succede? E poi ci vengono a dire che sono bravi. Guardate che servizio più semplice questo. Ma già. Di tutti. E ci dicono che loro sono anche per la qualità. Dice, è un caso, Frank. Poi esce fuori il strutturale. Perché addirittura se ci sono i microfoni. Se rubano... Se i cadaveri... Ma... Momento! Ma quel pesmecchia? Se li rubano, perché li rubano? Per fare la condizione della tua casa? Eh, li rubano per vendere. Con due problemi. Due. Chi è i medici che li acquisti? O i servizi medici che li acquisti? E... Come mai i medici non si accordano di usare pesmeccheri? Usati. Usati. Beh. Con i rischi che competono persone, almeno. Con i rischi... Chiaro, se io voglio comprare una macchina usata, la compro. Ma la compro all'usata. Non la compro a prezzo pieno. Ma che nemmeno? Primo. Primo problema. Chi li compra? Secondo problema. Che si vuole. Chi li spianta? I necrofori stessi? Sono bravi? Sono... Va bene che i vecchi mazzarini, i macetaio, erano capaci di fare questo. No. Ero capace. Però, non è che vedo che in una camera mortale di peso non si accorge nessuno seppi. e non c'è un medico che deve accertare lo stato del cadavere. Prima che esca la loda. La legge dice così. Ancora una volta ci dobbiamo inserire anche lì. Quindi io non mi arrabbi più. Vi voglio fare arrabbiare su questo. Per questo chiediamo 10, i 20 euro. dobbiamo pagare i correnti. E con questi merito dopo che ci tornano tutto. E vogliamo fare questi correnti. Quindi... Perché? Perché noi siamo di fronte a una questione che è della schizofrenia. che corrisponde ad un... Ho fatto questo lungo intervento di discussione. Perché corrisponde ad una situazione che è generale. Diceva alcune cose il dottore prima. Ve le voglio completare. A che è capitato ad andare all'ospedale e che gli chiedono di essere ricoverato in congiunto e che gli chiedono di portare me vicino? Ehm... Io ero amato. Bene. Ehm... Forse non sai una cosa. E poi nessuno non le voleva inventare. Aspetta. Forse non sai una cosa però che... Bisogna riflettereci. Riflettereci. Quando l'ospedale compra le medicine ottiene uno sconso del 50%. Perché le compra il loro. Che devo risparmi per le compri. Quando le compri tu... Non è che le compri tu. Tu vai in farmacia. E lo sconso del 15. Chi paga? Sempre servizio pubblico. Scusa. Sono diventati talmente schizofrenici che pur di far vedere che spendono di meno in ospedale fanno spendere di più al pubblico che il 35% per medicina. Questo si chiama schizofrenia in medici. E questi sarebbero i dirigenti che paghiamo 18 città da mila euro. Dico una cosa a folle. Sapete che non funziona il meccanismo? Non ci parliamo. Ma ci stanno prendendo in giro. Seconda questione. Uno dei reparti migliori delle marche è la cardiologia di San Mernetto del giorno. Noi ci sono una mila giugno. L'hanno chiuso. A D'Alcone A D'Alcone Adizio non si possono fare più piccoli interventi. Tutto a D'Alcone però in alcune età i piccoli interventi non li possono fare ancora. Andiamo da fuori. Come diceva lei tutti i trasferti che infatti che senso ha? Dov'è? Ma la cosa più bella avviene con la demolizione dei contossoccorsi. Allora due mesi fa se è uscito i giornali di Fano che non ricordo il nome anche quello ma se no lo direi che uscì sui giornali dicendo i cittadini non sanno usare il contossoccorso Fano e quindi è troppo affollato. Ma c'è più superscine anche loro. Ma se chiudi il contossoccorso di D'Alcone già l'ha parlato prima il contossoccorso di Fano è chiaro che c'è di tutti. E' chiaro che aumenta la gente. Per obviare queste cose cosa deve fare? Dei fare una pratica che la chiamano triage. e tu arrivi e ti metti il colorino non te lo mette un medico te lo mette un infermiere. Il colorino a seconda di quello che l'infermiere pensa sulla base di quello che vede lui e sulla base dell'effetto che del medico dell'ambulanza del medico condotto che ti manda giù stabilisce quanto devi essere visitato se c'è una precedenza o meno deve essere visitato dal medico del contossoccorso. e lo chiamano triage e dicono che è moderno e che è il sistema moderno e che la gente non si impara. Io ripeto sempre che i triage l'hanno inventato dicono i medici di Napoleone ma di sicuro l'hanno inventato i medici francesi nelle grandi battaglie della primavera mondiale massacri giornalieri quindi la gente a flotte veniva integrizzata verso i medici che in genere facevano interventi chirurgici pesanti e quelli che erano più di là che di qua gli devi per queste per il prete e queste per il medico. e dicono che questo è un avanzamento è la novità è la modernità ora questi sono tutti i punti schizofrenici e di fatto non regolano mai il confronto con noi su queste questioni ma la cosa bella è una se è vero che questo introduce un meccanismo di chirurgizzazione io dico che prima introduce un meccanismo di demolizione del servizio del servizio come si fa a contrastare? intanto contrastando sul piano come stiamo facendo sul piano della legittimità delle azioni e della corrispondenza tra spese e risultati riesci ad andare sulla questione di lei un attimino così ci schifo perché è difficile parlare facciamo un po' a ecco io e prima i tempi di visita ecco quali sono le lea? le lea sono i livelli minimi assistenziali che aspettano ogni cittadino italiano in base all'articolo 117 mi pare della costituzione che dice che la sanità in Italia è gestita in maniera concorrenziale cioè insieme concorrere non scontrasti da Stato e Regioni e qui sono queste cose noi ci soffermiamo solo su questo perché perché dice che le prestazioni dovrebbero essere garantite in 72 ore per indifferibili in 10 giorni le visite differibili in 30 le accertamenti entro 60 alzi la mano che ottiene visite mediche gratuite entro 60 giorni se non lo ottengono vuol dire che sono progetti ma non basta dirlo occorre denunciare ecco perché facciamo stessi perché questa gente che piglia questi stipendi poi arriva che il CUP non funziona e prendiamo anche i migliori di euro per mettere in funzione il CUP che è diventato un centrarino per fare le visite private non le visite pubbliche perché ti dicono ah tra 12 mili però c'è un posto di iglo fra poco se no vada fuori questo ti dicono se ti dicono scupidaggini fermate se non è così ed è così anche per gli altri interventi è evidente che stanno spendendo 2 milioni e 8 senza darci i risultati che la stessa regione aveva partito col governo inserito l'attiva nazionale finché c'è un diritto dobbiamo imparare ad esercitarlo ma il diritto non lo si esercita solo da singoli lo si esercita insieme perché da singoli siamo troppo pochi chi ha seguito la vicenda di Chieppe sembrava che era impossibile invece mi dicevano attenzione finché c'è un quadro di legittimità legale noi dovremmo batterci su questo smettere di controllare lavorare come le forbichine e buttare giù la costruzione che altri fanno c'è un punto di scontro finale tutto questo discorso ed è evidente l'ha accennato ma tutto questo patrimonio alla fine che fine fanno? noi parliamo ospedale ma non ci poniamo il problema che fine fanno? è l'equilibrio la pubblica di chi dirige e di chi imposta questi problemi da una parte distruggi il servizio pubblico dall'altra si in possesso dei zoni pubblici di fatto e che decima cos'è l'ospedale di Frosobrone? l'ospedale di FAC l'ospedale di Pese gli ospedali delle nostre città cosa sono? l'ospedale di Frosobrone viene costituito in tempi moderni nel 1892 come ente morale come ente morale che ne è superato nel 1992 con l'ingresso del servizio sanitario nazionale adesso lo vattono solo non è più l'ospedale ma non lo sarà più con questo tipo di gestione non immagini ma rimangono rimangono delle camere preparatorie rimangono dei servizi molti di quali anche di recente di recente costruzione di recente investimento no? se lo dice i tecnici ha colpa dei politici che ci hanno imposto di investire lì se lo dice i politici ha colpa dei tecnici perché hanno programmato male hanno sempre l'azione loro e poi si hanno tolto hanno tolto più di due questa verità no? e noi non sappiamo far valere la nostra razione ma quelle strutture sono appetitissime sono appetitissime e allora che cosa si fa? da una parte si distrugge la sanità pubblica in nome dell'efficienza dall'altra si dice ma perché mandare male questa struttura? chiamiamo il privato il privato che interviene ci fa anche il piacere di intervenire no? perché viene investito non viene investito ma non va lì perché hai già tutti investiti no? e non rischia neanche niente perché c'è la convenzione a fare gli imprenditori così è come fare gli imprenditori con più gas è facile no? le danno i soldi e gli strumenti e loro hanno solo i guadagni ed è lì che dobbiamo fermare perché dobbiamo fermarli lì? perché se quella struttura è le cittadine è stata posita dalle famiglie e dalle comunità perché devono decidere da qualcuno che ha segnato un privato? cioè magari poi a collegamenti politici personali o familiari con i dirigenti della sanità sia a livello politico che a livello tecnico diciamo così e li avveranno sconti noi stiamo facendo tutti questi ricorsi a Taro e tutte queste cose compreso il discorso della parte civile e di chiedere i danni non a Francia non solo a Francia ma a Lafi e alla Resolta perché vogliamo arrivare ad uno scontro in cui i cittadini possano decidere che fine fanno le strutture e di fare la sanità a ricominciare nel territorio qualcuno penserà che questo potrebbe anche essere impossibile io dico che non è vero e non solo dico che non è vero ma che se i cittadini vogliono si riprendono ciò che già loro basta che non si scordino che è già loro e dai cittadini è il territorio e se ci scordiamo da questo ci siamo fatti e allora guardate che il primo misero successo è importante sai che la sentenza vede la... nel silenzio l'abbiamo già ottenuto è la sentenza siccome noi siamo in corsi non contro gli altri ospedali ma in potere dei livelli assistenziali minimi il TAR dice non ci dà la soluzione però dice perché la regione potrà adoperarsi per avere in fase spontaneo accoglimento delle sollecitazioni cioè attenti io tra un anno devo giudicare perché loro non devono ma se devo giudicare in base alle leggi non è detto che ho ragione a te regionale e quindi mi invita a accogliere spontaneamente la rivendica sempre cosa voglio dire con questo che abbiamo detto? no! ma con questo voglio dire che la via di insistere sul quadro della tutela dei diritti che abbiamo già senza dare per scontato che ce li hanno già un parco diamo per scontato che ce li vogliono ma non che ce li hanno già un parco non è un parco eh è percorribile ed è percorribile anche in termini non eccessivamente giusto si stanno avviando molto con il comitato di Forso Colombo in giro e vedo le altre parti perché? perché colpiamo dove fa male come abbiamo imparato nelle altre pertenze colpiamo dove si vence una situazione come un attuale che si vende solo su una cosa sul giro e sulla propriazione su due cose che una alimenta l'altra soldi che alimenta il potere e il potere che alimenta il soldi se noi vogliamo fare la figura di quelli con cui c'è scritto ciappone basta allontarsi scrivere su Facebook o andare a par a dire che non va bene niente e che toccherebbe cagare tutto quando cambia tutto quando vuoi cambiare tutto sta tranquillo che non cambi niente e sta tranquillo che te la mettono in quel posto in tempi più brevi di quello che tu pensi se invece riusciamo a impostare così non solo li rallentiamo ma li costringeremo a discutere caso per caso situazione per situazione e sia cosa vuole che a fare alla fine dei cittadini cittadini cosa si fa se troveranno una forza sufficiente che non significa mai un'animità eh a me basta il 25% da gente per vincere questo tipo di battaglia perché finché finché c'è questo quadro giugno se poi ci sveglieremo se abbiamo cambiato la costruzione che hanno modificato l'idea che hanno modificato tutto reagiremo in base a quello che ci sarà in quel momento adesso reagiamo in base al cuore che ci sono adesso bene se non ci sono eh se ti erano piante ti hai fatto prima non lo vogliono ma si non lo vogliono mi hanno io vi ringrazio per aver partecipato vi ricordo che la donazione la potete dare anche a stasera per chi vuole darla se vuole posso c'è la tabacchirica è fuori tutto ma è che c'è la tabacchirica noi abbiamo bisogno di 2-3 calcinelli che collabino al vostro lavoro come abbiamo trovato la tabacchirica e come abbiamo trovato l'altra parte questa è la verità non che vanno sui tabacchirini ma uno qui che giri due tre che poi qualcuno va anche per perché la tabacchirica è il punto lì principale dove portarli però è chiaro che un quartiere vi ricordo solo l'esempio del quartiere in San Antonio dove c'era l'ospedale c'era il presidente del comitato di quartiere ci ha dato una mano ha fatto porta a porta e ne racconta cento solo in quel quartiere là lui lì hanno un'unione come quartiere come zona c'era l'ospedale lì sono molto uniti lì l'associazione di quartiere è forte il presidente ha fatto questo favore così però anche altri non avremmo raggiunto le 450 altrimenti però più siamo migliori più gente ci aiuta più andiamo avanti più siamo più l'avviatezza non penso perché c'è gente che la sottoscrive e come dice Adriano loro hanno un po' più la sicurezza grazie